Diario di bordo. Sono a casa da tre giorni. La situazione coronavirus potrebbe risolversi, ma potrebbe anche peggiorare. La mia quotidianità non ha subito alcun cambiamento. Quando hai otto ore di lezione al giorno cambia veramente poco cosa fai nelle restanti ore di veglia. Comunque pazzesco come l'uomo a volte pensa di essere al centro di qualcosa quando non è scritto da nessuna parte che qualcosa deve avere un centro. Siamo arrivati fino a qui, ma una struttura complessa come quella odierna svela alle volte delle fragilità. L'unica cosa da fare è comprendere che probabilmente non siamo tanto speciali quanto pensiamo di essere, ma in senso positivo. Sfruttiamolo per accettare una coesistenza più coesa, accettare dei compromessi, ma soprattutto accettare la natura, accettare gli oceani, accettare gli animali, accettare gli alberi. 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 Grazie a tutti 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 Yeah Grazie a tutti 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 80% 95% 95% Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Ok Grazie a tutti 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 Grazie a tutti